oh eccoci qua mi manco solo io da piccare vai vado di siege vado semplice si perché non c'è un healer manca un healer no io poi vado di siege per recuperare un po la mira perché ho usato troppe abilità da tanto che non gioco e ha troppi assassini siamo tre servirebbero un healer un assassino e due come brimson a dire le smoke mai e necessità del posto tolkien a posto chi è l'ultimo giocatore vanno a defusarmi oh ma ho intappato ok ora va bene no non ho comprato un cacchio ragazzi per fare sta cosa capito arriva vabbè tanto ragazzi sanno che siamo qua no non lo sapevano ma ok ora lo sanno a sinistra arriva uno oh caspiterina ok bene no vabbè dai dammi la spectra no 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 almeno almeno va bene io faccio i make the enter ma chi è che mi ha hitato no ma qua passa attraverso comunque è solo la palla nico mille per favore preso qualcuno flanca l'hai ucciso è qua a sinistra ci gette che cattivoni quelli contro ragazzi vengo con te allora ti faccio l'enter ti faccio l'enter i make the enter oh parete no ma che morte schifoso vai caccia da dove è arrivato quel colpo da dietro grande eccolo long window perfetto oh caspiterina mamma mia quanto ti ha fatto la chs che brutta posizione e mi son fatto battere da un 78 cristo ma che schifo sto giocando malissimo ecco mi serve che tu tieni la spike e rimani viva ok eh va bene che è cioè devi fare un qualcosa di decento oppure devi fare schifo no 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 devo fare un qualcosa di decento e allora vieni proprio di asfalto please can you can you fake bee please bravo vengo per uno no ok faccio l'enter oh porca paletta ottimo oh brucia wait 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 bro play for time play for time play for time buonissimo reggio di giocare per il tempo perché trovi la gioco grande grande ehm 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 ci vuole mettere l'arma perfetto mamma mia grande semi che bello quel coltello allora vado con qualcosa di più leggero ma io ho proprio tutte le armi semi me la dai la mitraglietta no ehm si ok mitraglietta volevi ehm si la spectra tieni no 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 aspetta devi restare nico l'hai venduto no 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 ce l'ho ce l'ho ok perdon vai no io vado mid nico tieni la spike ma di ricordi smoker smoker si ne ho una eh perché devi comprarle quanti soldi c'hai cd quanti soldi c'hai cd ah ma li sono tutti qua ragazzi no ehm nico dovresti no non puoi potresti provare vai avanti vai a destra vai a destra vai a destra vai a destra qua c'è i ehm già bravissimo eh caspiterina vai grazie a caldo che io sto facendo richiedi di comprarla cosa dammi taglietto dov'è? da qui dov'è? ok grazie ok io sto a destra porca paletta brava brava spara 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 dove è nico? non so era qua dietro se l'ha spostata sicuro ma è solo lui ma è solo lui? si hola bello quello stick lo prendi solo facendo un 13-0 se non mi ricordo male non mi ricordo male non mi ricordo male ma io vado di vandal non mi ricordo c'è viper dietro di te oh viper l'ho preso niente mi guantavo io non riesco più a fare lo spreco controllo oh cristo oh cristo filati metti il muro metti il wall 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 rassami 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 grazie si non è andata neanche bene questa partita prendo il cechino prendo il cechino metti vieni con il medico quando la scelta e fia il cechino prendo si ora che viper potrebbe essere o qui o qui adesso hai da una cechinata vaffa brodo glielo ho detto che vai da una cechinata vaffa un brodo vaffa un altro andato fatti pro player da distante dai e che caspiterina per dindirindina il nico ce l'ho io lo speiko però si vieni dove ho il tuo vandal lo prendo troppo quindi c'è No? Dai, questa è la giocata bella. Questa è bella. Vabbè che fai se usavo il cecchino. Oh, ora si riparte, dai dai dai, ora li spacchiamo. Devo smettere di giocare col coltello però. Adesso ti togli quel cacchio di coltello adesso. No. Sennò cosa l'ho preso a fare? Per farci perdere. Per fare il figo quando è finita la partita. Prima bisogna vincere. Faccio l'enter. Una a destra. Ma no, c'è la... Guarda, sei incazzata. Ha preso l'operator. Sei arrabbiata di brutto. Ah. Oh. Oh. Grande, grandissimo. Bravo. 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 Bravissimo. You're a monster. Questa è clippata, eh. Clippata. Caricata. Bella stessi, mi è piaciuta. Non sapevo che fare, ti giuro. Perché il momento prima di attivare i punti era un panico totale mentale. Faccio l'enter, Nico. Che ho long. Che ho long. Presa. Devi gestarti un attimo meglio con la mappa, con la prova. Possibile. Ah, uguale, uguale, uguale. Nico, guarda che è long qua. E' mille. E' banale, esce da sinistra, da destra. Ok, ok. Grande. Planta, planta. E' long, e' long. C'è long e... Wind dog. No. Ah, dove hai tirato la palla. Dove c'è la palla. Sim. A destra, a destra, c'è anche Viper. Nico, ila, 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 ila. No, no, sono 150 di hit. No, ok. Ah no, scus, due stillare i getti, in realtà. Nico, lascia stare, lascia stare, non ce l'ho fatto. Ho preso un vandal, Randall. Vabbè, l'ho trattenuto, però. Per forza. Ho fatto benissimo a giocare per tempo. Buono, buono. Oh, bello. Nadie, mi raccomando, compra. Prendi la smoke. Le smoke. E ti dico di dove piazzarlo. Devi comprarle. Sì, aspetta. Tu non dovresti vedere me sulla mappa, in teoria. Ma... Ma poi la Nadia c'è quella affare lì, fantastico. Quello del... Che piazza per terra. Sì. No, quell'altro. Che piazza per terra diventiscono fuoco rapido. Oh, sì. Ho P quello. Eh... Jetten, Reese, can you go B, please? Quello lì, quando siamo tutti raggruppati è meglio metto. Thank you. Ho lasciato i tuoi più scarsi subito a posto. Così mi faccio la lese in caso muoio. Eh... Ma tanto adesso vanno B, non vengono mai. Sono A invece. Nico, 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 Nico. Eh... Io sono morto. No, non morire. Eh... Non posso curarti. Temporeggio, temporeggio. Ok, what band si fa da cosa? Così... Che si muovono in terra. Non micro. Non micro. Non micro. Non micro. Perfetto. Ottimo. Bro, posso mostrare qualcosa? Voglio mostrare qualcosa. Questa. Non difusata, non difusata. Non difusata. Ritz, non difusata. Vuoi fare la ultima seconda o...? Sì, sì, sì. Ok. Non vedo niente. Ok. Non ho capito un cazzo di quello che ha detto, tranquillo. Non ho capito un vagiù di cosa cazzo ha detto. Non ho capito un aceribicolo di quello che ha detto. Ok. Vai, io vado di cerchino. Ok. Qua ho fatto la mia prima 6-6. Ok. Da dove? Ho preso io. Ok, mi sa che vengono da mid. No, da mid, da mid, da mid. No, da mid. No, da mid, da mid. E' una distrazione. Vanno... Appunto. Eh, esatto. Vai, andiamo, andiamo. Qua c'è Jet. Tu che c'è il cecchino, Nico. Non ce l'ho. Non è che c'è, bravo. Eh, window, window, window. Oh, sono sentato lì. Ho hitato una? Mica, ti si è fatta tutte dure. Ma grande. Ma non ha marato la kill. Ottimo, 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 ottimo. Direi. L'ho detto che ci può vincere. Posso fare un altro round con l'aspectre. Se avrei deciso se riprendermi, se ottenermi l'aspectre o prendere il martial. 6-6. Infatti i due conti non puoi andare troppo push, tu. Non sei un dullest. Ah beh, tanto... Riprendo... Vai, riprendo... Cecchino. No, io guarda cosa posso combinarti adesso. Voto. No, aspetta, buta via. Buta via, aspetta. Ti devo... Prendermi l'aspectre qua. No, vai, vai. Ace... No, non si può fare. Mid. Sono tutti di la missa. All mid, guys? Ok, sì. Sì, sì, sì. Sono mid? C'era solo quello nuovo mid, non mi ricordo mai il nome. Adesso uno di loro ha detto, I'm clanking. L'hai implantata di là? Plantata in B. Sì, in B. C'è uno spectre, Niccolonga, non posso farne per me, se non c'è uno di me. Meno male. Mi hai sparato. Mi hai salvato. Abbiamo 20 secondi. Faccio l'enter veloce. Vai. Qua? Sono qua a destra? Eh, niente, non ce l'ho fatta, vanta parla. Tielo, Nadia, tielo, 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 tielo. Eh, ti dico che non posso. No. Sorry I missed all the bullets, I'm sorry. Nadia vai con... Con quella di brutta, quella raids, come si chiama. Io andiamo a B, perché sono B sti qua. Sono bruci da voi. Mi hanno plantato. Chi è? Chi è? Udio. Niccoli non mi puoi illare, però. Illati tu, illi. Illati tu, ho detto. Ehm, vai per a one shot. Nice guys. Buonissimo, buonissimo. GG, sorry guys, nice try. Ho preso un vandal. Bello anche, voglio quello. Vuoi? Mmhm. Fatma. Eh, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui. Sono qui, sono qui, sono qui. G. Beh, lo sto qua. Allora, il coltello voglio vedere dove lo tira. Secondo me lo tira qua. Vengono tutti con voi, qualcuno. Ok, semi. Oh, Nico. Eh? Grandi, grandissimi. Ti ho stilato, no. Ti ho stilato. No, non te. Ma l'ho danneggiata io. Ma stiamo tornando con tutti quanti. Ho mettato pure dietro il muro sta qua. Adesso spendere mille per togliermi, spendermi 50 di scudo, scotch. Se non ce n'ho per dopo. Tentano l'ultima volta via e la prossima vanno. Approssimando, dai. Vabbè, passiamo di qua, poi non cazzo facciamo una volata di là. A destra, a destra. E poi anche da noi. C'è anche... C'è anche Jet. C'è anche la Spike, Nico. C'è la Spike. Chi c'è la Spike? Noi qua. No, l'hanno presa. Andiamo di là, stanno lottando, sicuro. Onda noi. Nico, resta un'ottimo qua, resta un'ottimo qua. Resto un'ottimo qua. Sono tutti mid. No, ma aim, bro. Oh my god. Vai. Ah, ottimo. Mi sembro, sai uno di quelli che trovavamo io quando giocavamo all'inizio? Fortissimo, tappato di skin. È vero, è vero, è fortissimo, è tappato di skin. Più skin aveva più forte era. Sì, 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 no, il coltello faceva lo sborone. Esatto. Uguale, 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 uguale. Ma hai provato a schiacciare Y con la mia, con il mio Vandal? Sì, 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 ma comunque io schiaccio C perché da Y non è troppo lontano, non posso spawnare col coltello. E lei mi serve quel, in realtà. Eh, io no perché ce l'ho di abilità. Non viene? Sono in B, sono in B. Sì, per forza. Uh, brutta questa, questa la detesto. L'hai tirata, l'hai tirata dentro comunque, deciditi sai. Ma cosa? No, l'hai tirata dentro le mura. Ma ci servirebbe solo, sarebbe la cosa? Perfetto. Ma qua dietro dietro! Non ci credo. Sono morto. Non ce la facevamo, vero? No. Lunga la diffusa. Caspiterino. Comunque dormiamo un'ora in più stanotte, se vi interessa, che è nell'orario. Sì, non hai guarda. qui dico tu non dormirai qui, però non dormi insieme, tu dormirai 4 vai schiacciaci ma bellissimo è vero? è la pallina che esce ma chi stanno tutti qui? non so, perché ci piace stare tutti qua ma sono tutti i mid no, vanno mid B per la precisione oddio non ho lasciato ok voglio vedere Viper come me la claccia ruota, 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 sta ruotando ragazzi da dietro? caspeteria, ha ruotato? no, era FK stava cercando di ruotare stava cercando di ruotare hanno perso B e adesso va morto ok oddio è passato, è passato no, è passato è passato è passato è passato è passato è passato ok io vai 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 cash a cazzo duro è sceso animi remani adè sta plantando sta plantando fight planted non si fanno stupendo ecco la quale attuale contento ma comunque mi piace mi piace di più un vandal è buona mi piace di più un vandal come quello che ho io quello dell'albero a me piace un casino a me questo qua piace un casino questo è futuristico millecinque mille sette ah quando le due le due snowball scusa slow orb per la guantap un'altra parte quindi ha senso b b sembra un amore quando parla spike planted non è perci al wall il wall va giù tre dieci secondi più o meno scherzo ho predictato un po' troppo no aspetta lascia rifiugare sì ok lasciate rifiugare le hit eh vabbè niente dai ne manca uno ma c'è così clean queste 40 kill mamma mia quanta roba altra ace no chiedo eh se volete la faccio oh se vuoi ok ci sto però te la stilo eh te lo dico ok pila heheheheh assolo che battuta di merda che battuta di merda si dovrebbe ora mi prendo i passi se posso comunque qua oh è stilata bastardo nicola me hai fatto morire mi hai fatto morire mi hai fatto morire scusami oh muro c'è non me la faccia in il cazzo vabbè sono dei nabbi che cosa partendo adesso mi così cazzeggiamo insieme facciamo i coglioni dove sei adesso andiamo avanti lì qui 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 là dove vedi l'arma qua restami restami veloce veloce via via dalla killj dai che ce la fai guarda cosa ci fa adesso inizia a cazzeggiarmi guarda lì un po' 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 sorry guys voglio provare un po' un po' un po' di tappi ho visto come l'ho guantappato una tira dove sei che con te chiedi che ti compro no eh perché c'è can someone get this? thank you can someone get it? thank you ah ricordatevi che vai per c'ha l'operator quindi viene sicuramente a dici? Nadia puoi andare a una smoke qui oh oh sennò potrebbe venire long si window no invece qui è lì? bravissimo Nadia clean come la merda arrivo subì arrivo 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 che merda scusa ma è la più brutta ulti che abbiamo mai visto stai plantando invece stanno no eh sì lo so riesci a plantarci anche le questioni sai che sono di là eh più slowly di così qua era sono tutti lì sono sono tutti e tre a sinistra sono tutti a sinistra sono tutti a sinistra se tu spari verso sinistra vai dentro questo vai 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 un po' più in alto un po' più in alto devo morire? no no non devi morire vai 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 muoviti entra dentro max ammo e spara come un bastardo madonna adesso si fa l'ace come minimo c'era vicina tre trovato l'inferta poi poco sfolla mi dà il l'anno la ultima usata esatto e vieni che te l'ho aspetta te l'ho usato ora l'ha fatto te l'ho dato te l'ho dato aspetta Scusa adesso non da più, ce l'hai anche te? Non c'hai soldi, devi comprati Ah devo comprare niente? Aspetta 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 eh dammi il tuo dammi il tuo E sei? E io non ti vedo, eccati qua A post andiamo Maybe we're gonna go again, hey one more time Mi raccomando, facciamo save Piazza il wall? Piazza il wall? Yeah Aspetta te lo dico io quando Si piazza il wall Ma porca paletta non ci credo Veramente non sei riuscito a montattare Non sono riuscito a montattare, ti giuro Ti ho perso Questa qua si è anche rotata le cast Che poi dio buono Si sta qua ha giocato solo per il balizone No lui ha detto che è stato bannato per un mese C'è una crosshair, si c'è una crosshair tanto parecchio utile C'è queste crosshair Sono crosshair molto molto buone Che la mira un po' ce l'ha, solo ti devi un attimo perfezione È bella sta crosshair però È molto più grande No, non è molto bi Un buon giorno Un buon giorno Sì, sì che buono Noi bene e mezzo 32 kg si poteva si poteva andare meglio si poteva riuscire a vincere invece si è che ho cazzeggiato un attimo va bene basta che non giocava col coltellino no adesso non so il mio KTC tengo sarà per la prossima grazie